Speravamo un risultato migliore, purtroppo hanno fatto un tiro in porta, il calcio è così. Secondo me il mister con i cambi doveva mettere a meno Belotto e Scamacca nella mischia, invece l'ha messa in tribuna e purtroppo non l'abbiamo messa dentro. Questo è il secondo mondiale consecutivo fuori, è giusto così, è giusto così. È andata così, ci riproveremo tra quattro anni. È il gol, però non puoi fare una partita del genere, 90 minuti e prendi un tiro e un gol. La partita dominata, loro al novantesimo sono usciti un gol. Cambi secondo me sbagliati, Levi immobile, peccato. Perdere così è brutto, perché secondo me in Portogallo te la giochi, loro ti fanno giocare. Poi purtroppo siamo senza terzino sinistro. È mancato un pochettino di concretezza in più, gli attaccanti non figuravano bene, Bello immobile, Berardi ha sbagliato tanti ricordi, tante conclusioni alla porta. Si poteva fare qualcosa di più contro una squadra che è poca roba. Non arrivare al mondiale è stata veramente una delusione pazzesca. No, 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 ho fretta, devo andare a andare alle 6 e mezzo a lavoro, un bordello. È troppo deluso. È troppo delusissimo, sarebbe stato contento di andare a lavoro dopo le 6 e mezza, se non me la c'avessimo vinda.